Eccolo il giovane francese Yves-Lucas Dominique Balmont, 23 anni, del quale si sono perse le tracce tra le impervie colline di Longobardi e Fiume Freddo sul Tireno Cosentino. Ieri è stato ritrovato il suo cane mentre si aggirava nei pressi del cimitero di Fiume Freddo. Era leggermente denutrito ma tutto sommato in buone condizioni. Questa mattina il prefetto Tomao ha convocato una riunione urgente con il coinvolgimento di tutte le forze impegnate attivamente nelle ricerche. All'opera giorno e notte uomini di questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Impiegato anche un elicottero. Il giovane francese dopo aver trascorso le vacanze estive nella casa di famiglia a Borgia, per circostanze ancora da chiarire si era trattenuto in Calabria spostandosi sul versante opposto. Con la famiglia i contatti telefonici si erano fatti sempre più radi fino al totale silenzio che ha spinto la madre a presentare denuncia di scomparsa lo scorso 14 gennaio. Nel frattempo i carabinieri stavano già indagando sul ritrovamento del furgoncino in uso al giovane francese datato 6 gennaio. I militari erano intervenuti su segnalazione di un residente della zona che aveva notato il veicolo fermo in una contrada isolata di Longobardi già da qualche giorno. Solo dopo la segnalazione giunta ad Oltralpe i due episodi sono stati messi in collegamento. All'opera anche i cani molecolari, anche se il maltempo degli ultimi giorni ha cancellato eventuali tracce. Stiamo allargando il raggio di azione e stendendole anche su un canalone ed un torrente della zona. Salvatore Bruno per la CNews24